Buongiorno a tutti, eccoci qui bentrovati, buon mercoledì 3 aprile, passa il tempo, aspettiamo notizie, aspettiamo novità, ma intanto la quota dei punti da portare a casa per il ventesimo Scudetto è scesa a 11 con qualche difficoltà, ma come è normale che sia, l'abbiamo detto, arrivano sfide con squadre che stanno cercando di salvarsi, che daranno il tutto per tutto e quindi anche lunedì prossimo contro l'Udinese, poi contro il Cagliari, saranno tutte delle piccole battaglie per i tre punti che servono per arrivare alla quota magica e provare a festeggiare il ventesimo Scudetto nel derby, difficile, però vincendole tutte si può fare anche questo, ma credo che conti poco, come hanno detto i giocatori più o meno tutti a fine della partita con l'Empoli, conta non il quando, ma cercare di farlo il prima possibile e scacciare anche quegli intertristi che quasi sperano in un crollo per crogiolarsi come due anni fa come in passato di un'incredibile sconfitta. Teccaldo più famoso di YouTube in arrivo, mi raccomando continuate a iscrivervi al canale, obiettivo insieme alla seconda stella quello anche di superare i 50.000 follower, un bel traguardo per un canale che è partito subito nel 2019 molto forte, poi stiamo puntando i 50k per dare ancora più autorevolezza alle nostre argomentazioni, pensieri, opinioni che portiamo qua sul canale insieme a questa lettura critica di tutto quello che esce sul mondo inter e non solo, che vi portiamo qui con questa pagina quotidiana di leggerezza. Non dimentico neanche il gruppo Telegram per avere le notifiche di tutto quello che succede, facciamo e non perdervi nessun video che spesso manca il link appena uscito, quindi per essere ancora più sul pezzo scaricate l'app nello store del vostro telefono e poi cercate Marco Barzaghi Inter, servizio gratuito di messaggi come Whatsapp e quant'altro. Dicevamo riposo anche oggi dopo ieri, due giorni proprio per ricaricare le pile dopo il ritiro, dopo la sosta per le nazionali, gli impegni con le nazionali, si è vista stanchezza molta soprattutto in alcuni elementi, soprattutto negli attaccanti anche che se adesso e poi leggeremo una parte di un articolo del Corriere della Sera di oggi che accomuna in un periodo di grande difficoltà Mbappé e la sua sostituzione stizzita, e la sua rottura definitiva con Luis Enrique e il PSG, Holland che non è riuscito a segnare attaccato duramente da Roy Keane che gli ha fatto arrivare un missile dicendo che in alcune partite sembra un giocatore di quarta serie perché contro l'Arsenal non è riuscito a segnare come non era riuscito a farlo nella finale di Champions League, l'ha bloccato da Acerbi stavolta da Saliba, nonostante l'anno scorso abbia segnato 52 gol, qualcosa del genere, nonostante comunque un bottino sempre importante, non parliamo di Mbappé che ha perso il mondiale solo in finale e viene messo insieme a questi altri due extraterrestri, due attaccanti più forti del pianeta, anche Lautaro Martinez per questo periodo di flessione che sta attraversando anche se, e non si può non sottolinearlo, è arrivato dopo un anno e mezzo di astinenza finalmente il gol con la sua nazionale che è un po' sconfessa anche questa narrazione di giocatore in grossa crisi, poi è vero che non segna dal 28 di febbraio con l'Atalanta, però di mezzo c'è stata la sosta per le nazionali in cui ha segnato, prima aveva saltato la partita con il Bologna per preservarsi alla Champions dove non è riuscito a incidere contro l'Atletico Madrid, braccato dai suoi difensori come piano partita di El Ciolo Simeone, però diciamo che aveva anche mandato in porta Turam e Barella con due azioni veramente importanti, con delle palle, con i contagiri che li avevano mandati in porta. Secondo me, tralasciando poi il rigore e quella zolla che si è alzata e che comunque la lotteria era già, diciamo, stata praticamente decisa dagli errori di Sanchez e Klassen, tralasciando quel rigore sbagliato umanamente, però forse il rammarico è quello di non aver segnato nella partita di andata perché ha avuto anche più occasioni rispetto ad Arnautovic che in tanti hanno crocifisso nonostante poi abbia segnato il gol vittoria, quel tiro deviato nel primo tempo su assist di Turam, quei due colpi di testa centrali, poteva far meglio, poteva fare un gol anche in occasione della rete di Arnautovic, non passa a Dumfries, colpisce Oblak e poi la palla torna ad Arnautovic che segna, anche lì non era stato, diciamo, perfetto. Però da qui a parlare di un caso Lautaro Martinez in crisi mi sembra un po' troppo dal momento che si appresta a tagliare anche il traguardo per la prima volta di capocannoniere della Serie A, 23 gol sono tanti, come non ha mai segnato. Costa Curta l'aveva attaccato, lui ha ricordato il derby di ritorno dell'anno scorso contro il Milan come esempio di partita da dentro fuori, importante, in cui è riuscito a segnare. Noi abbiamo ricordato anche altre partite fondamentali di questa stagione, come il gol del pareggio alla Juve determinante, poi tantissime reti, senza dimenticare quella della vittoria con il Napoli in finale di Supercoppa o la doppietta contro la Fiorentina che ribaltò la finale di Coppa Italia che si era messa male un anno fa a Roma dopo la rete subito in avvio di Nico Gonzalez, quindi al Mondiale ha perso la titolarità per colpa di quell'infortunio alla Caviglia che si è tirato dietro per tanto tempo e che ne ha poi inficciato il suo rendimento. E adesso cosa succede? Chiaramente l'avevamo previsto da inizio stagione, non avendo delle riserve adeguate per fare un vero turnover come era riuscito a fare l'anno scorso Simone in zaghi alternando Geko e Lukaku, anche Correa, scusate Lautaro Martinez, però mancando delle alternative di livello si è arrivati a un Turam e a un Lautaro un po' in riserva, Turam non segna addirittura da prima, dal 16 di febbraio con la Sarnitana, ma anche perché sono stati costretti a giocare praticamente sempre, sempre, a parte qualche poco turnover in qualche gara di Champions che è stato criticato da qualcuno ma che comunque ti ha permesso di arrivare ancora una volta scelta agli ottavi di finale per la terza volta consecutiva. Quindi ditemi un po' anche voi cosa ne pensate, mi sembra adesso assurdo mettere in discussione Lautaro Martinez che sta vivendo veramente una stagione epica da capitano, ancora di più responsabilizzato e bustato dalla fascia, dal suo amore per l'Inter. È chiaro che sono tornati anche gli smartellatori come potete sentire, bisogna iniziare come dice la signora Teresa prima i video se no veniamo attaccati da questi rumori importanti che spero non si sentano come sto sentendo io. Comunque ditemi la vostra su Lautaro Martinez è chiaro che poi giocando sempre con qualche problemino fisico ti tornano poi con gli interessi dei momenti però c'è stata la sosta e non ha giocato a Bologna se no staremmo parlando di altro in ogni caso. Aspettiamo le prossime partite, vedremo i numeri a fine stagione e poi si faranno dei bilanci finali. Numeri importantissimi invece quelli di Simone Inzaghi che con l'ultima vittoria contro l'Empoli, pensate, ha raggiunto le 100 vittorie nerazzurro con una media punti migliore praticamente di tutti. È una cosa abbastanza incredibile quello che sta riuscendo a fare Simone Inzaghi che qualcuno, ma anche noi l'avevamo un po' criticato. Vi ricordate quando aveva fatto quella sparata che sembrava veramente un po' una spacconata che lui portava vittorie e trofei e aumentava addirittura le entrate del club. 100 vittorie in 150 gare, come riporta il Corriere dello Sport, col 67% di vittorie. Meglio, pensate, di Conte, di Murigno, di Mancini che poi col Mancini Bissa ha rovinato la sua percentuale. Conta 63%, Murigno 62%, Mancini il 58%, Legno Herrera e Arpad Weiss il 56%, 53% per il nostro vecchio trap. 52% in Vernizzi e Cooper, poi abbiamo 49% di vittorie per Foni e 44% di Bersellini. Però, aspettando di capire se riuscirà a fare qualche altro record con numeri pazzeschi che migliorano ancora di più tra Clean Sheet che il record è 21% e l'Inter è vicino a battere con anche l'apporto importante che ha dato Audero nell'ultima partita, riuscendo a fare quella bellissima parata su Marin, con un Sommer che si avvicina anche lui e punta il record di Buffon, 21%, record che si può battere anche di punti. Mi sembra impossibile i 103 di Conte perché vorrebbe dire che Inzaghi le vince tutte da qua alla fine e credo che poi a un certo punto verrà dato spazio anche a chi ha giocato meno, però al momento è ancora possibile anche se è molto difficile. Record di differenza reti è 76, l'Inter al momento è a 59 con numeri anche nettamente migliori dell'anno dello scudetto di Conte e vi fa capire insomma anche la qualità nonostante ci siano tanti attacchi denigratori su quello che si sta riuscendo a fare. Nell'anno dello scudetto alla trentesima giornata di Conte l'Inter aveva 74 punti, adesso ne ha 79 quindi 5 in più, 73 gol fatti adesso 69, Conte 4 e subiti 27, secondo me qui sta la grande abilità di Inzaghi subiti dall'Inter adesso 14, quindi ben 13 in meno nonostante un gioco molto più offensivo e che dimostra come Inzaghi sia riuscito a trovare questo equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva che è un po' il segreto dell'Inter, ancora Guardiola arrivano dal suo docufilm frasi di grande elogio, di rispetto del tecnico top al mondo per il gioco dell'Inter, per Simone Inzaghi di come fosse difficile bloccare questi continui triangoli, sovrapposizioni, cambi di posizione che abbiamo visto benissimo anche lunedì sera con soprattutto Barella che secondo me è con Mkhitaryan il maggior interprete di questo gioco fluido di Inzaghi che passa da destra sinistra, inventa, si butta dentro e cerca sempre di illuminare, di creare, costruire anche Barella aveva passato un momento di appannamento che mi sembra abbia superato molto bene e quindi vediamo se riuscirà anche lui a finire la stagione in crescendo così come sta facendo Di Marco, così come sta facendo Bastoni con buone e ottime notizie anche per Spalletti, per l'Italia che potrà contare sul blocco Inter e su quello che anche Inzaghi ha costruito cercando di riportarlo in nazionale dove anche Frattesi, Acerbi, dopo aver risolto la sua posizione, Darmian, anche loro potranno dare il contributo con una numerosa rappresentativa, un Barella che forse non sta ancora segnando come dovrebbe ma secondo me è fondamentale per il gioco e mi è piaciuto molto insieme a Di Marco che ha già eguagliato il suo carerai con sei gol in stagione, un Bastoni al terzo assist consecutivo, se non segnano le punte diciamo che ci sono delle alternative altrettanto importanti e che il gioco di Inzaghi aiuta ad arrivare perché non è così fondamentale, anzi spesso come vediamo sia Turam che Lautaro arretrano, fanno da sponda, portano, liberano dai difensori l'area proprio per aiutare gli inserimenti degli esterni con poi la sublimazione del gol di Bologna, di Bissec da terzo a terzo a chiudere da un palo all'altro sempre l'assist di Bastoni con il colpo di testa del giovane tedesco che ha segnato due gol come Acerbi, come Darmian, insomma c'è un apporto importante anche da parte dei difensori che spesso riescono a essere pericolosi grazie a questo gioco così offensivo ma che concede pochissimo in fase difensiva dove abbiamo visto un'altra partita senza prendere gol e speriamo che si continui così. Dispiace un po' ieri sera abbiamo visto la semifinale di Coppa Italia in cui la Juve è riuscita a salvare la stagione, a ipotecare la finale non esserci dopo averne vinte tre di fila, quello dispiace un po' così come naturalmente si poteva far meglio in Champions League anche se difficilmente poi ci sarebbe stato un sorteggio fortunato con tutte le corazzate che si sono qualificate per i quarti come un anno fa e lì poi anche gli episodi, la sfortuna ha aiutato Guardiola a vincere se no sarebbe stata proprio l'impresa con la I maiuscola. Si parla anche di mercato sui giornali e sul web, nomi nuovi che vengono accostati all'Inter. C'è questo difensore francese che sta facendo 26 anni molto bene con il PSV Eindhoven, Boscagli o Boscagli se vogliamo dire ma la francese, 26 anni, scadenza di contratto 2025, valutazione 27 milioni, mi sembra un po' troppo alta per pensare a un'operazione anche se magari può essere un'altra di quelle operazioni che Marotta e Ausilio stanno seguendo tra un anno come Jonathan Ta del Bayer Leverkusen, giocatori che scadono tra un anno, mentre per questo i nomi sono i soliti che abbiamo fatto con grande attenzione soprattutto ai giocatori scadenza. Abbiamo detto Mario Hermoso, come vi abbiamo spiegato su Sport Mediaset, poi anche Adarabioio che piace tanto al Milan, che Moncada sta provando a far firmare, essendo in scadenza anche lui, difensore centrale del Fulham, che anche abbiamo sempre detto piace da tempo a Piero Ausilio, vedremo il rinforzo per la difesa. Per l'attacco il nome è sempre più caldo, la Gazzetta ripropone con forza Gudmundson, nonostante la sua valutazione sia in crescita dopo anche l'ultimo gol segnato nell'ultima partita contro il Frosinone su rigore che però si era procurato lui stesso, islandese, che vi ho detto sempre, ma a mia opinione, sarebbe il complemento ideale dell'attacco con Taremi già firmato, che arriverà, che è stato addirittura messo fuori squadra da Sergio Gonseissao, che non l'ha neanche convocato nell'ultima partita perché ormai, ma si è capito anche dal ritorno alla Coppa d'Asia, non ci punta più, complice anche con l'infortunio che aveva accusato avendo già la testa Milano, Taremi, Lautaro, Turam e Gudmundson sarebbe con la sua velocità e il suo dribbling, secondo me, il giocatore perfetto per avere anche, l'ho detto, ve l'ho spiegato più volte, un elemento che entra e spacca la partita a gara in corso, che è mancato, che manca, anche se Sanchez ha fatto bene però, si è trovato finalmente lì in aria, tra l'altro colpendosi col sinistro e il destro e riuscendo a segnare con una parabola abbastanza acrobatica, però serve di più, soprattutto a livello di Champions, non puoi avere come alternative Arnautovic e Turam e non possono essere solo quattro gli attaccanti perché l'abbiamo visto, poi ti manca anche solo Arnautovic che non ha fatto chissà che cosa, però con la sua fisicità, secondo me, sarebbe stato fondamentale nel finale di Madrid per andare a perdere tempo, a difendere palloni, a subire fallo, come è riuscito a fare a Bologna in altre occasioni, con la sua fisicità, il suo 1,90m, la sua anche abilità a difendere il pallone, a far salire i compagni. Basta che te ne manchi uno e la sfortuna ha voluto che mancasse proprio prima della partita di ritorno con l'Atletico Madrid e ti va un po' a far saltare anche tutte le rotazioni, per questo anche a gennaio consigliavamo comunque di riportare subito Valentino Carboni a casa perché avrebbe potuto dare qualità, magari qualche sterzata, qualche anche tiro dalla distanza, una specialità che Gudmundson potrebbe sicuramente far migliorare perché a parte Cialanoglu e Barella qualche volta mancano un po' i tiri da fuori all'Inter, mio parere. e un attaccante in più in una stagione che sarà con la nuova Champions, con il mondiale per club, quindi lunghissima, poi Valentino Carboni col fatto che è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, non sarebbe ottimo per la lista UEFA. Qualcuno dice che magari potrebbe fargli comodo giocare con più continuità per esplodere, però ragazzi se uno debutta nella nazionale campione del mondo dell'Argentina si possono avere dei dubbi, ma vediamo Real Madrid ma soprattutto il Barcellona buttare in campo Yamal a 16 anni, 17 anni perché adesso Carboni che ha 19 anni deve ancora andare in prestito, in giro, a fare chissà che cosa o addirittura essere utilizzato come moneta di scambio per arrivare a Gudmundson quando credo che tra un po' vale anche di più, però potrebbe anche essere un'operazione intelligente alla Fabian, darlo, cederlo momentaneamente mantenendosi una recompra è una possibilità di cui scrive oggi la gazzetta che non si può escludere, però poi vedremo anche in base a quanto succederà a livello societario quali saranno le mosse sul mercato e le decisioni della dirigenza che credo che in ogni caso siano la sicurezza, la certezza più importante per il futuro come hanno dimostrato fino a questo momento direi che adesso andiamo a leggere i vostri messaggi oggi come sempre le vostre considerazioni nello spazio a voi dedicato perché questo è lo spazio che dedichiamo a voi e al filo diretto che spesso è anche un accrescimento per tutti Paolone un po' scherzando ma con questa bellissima immagine di nonno con la sua nipotina Martina ci racconta come nell'uovo di Pasqua che gli ha regalato la sua nipotina abbia trovato dentro che cosa? I tre punti vinti contro l'Empoli poi il rinnovo di Inzaghi è un elevato segno che se si vuole continuare a vincere giocando bene fiduciosi anche sui rinnovi di Lautaro e Barella Delta un po' polemico dice non posso credere che qualcuno non sia soddisfatto della prestazione dell'Inter per me era una partita bellissima da entrambe le squadre con azioni avanti e dietro senza fermarsi un minuto è un esempio di un calcio moderno e l'Inter probabilmente gioca in questo momento il miglior calcio in Europa Delta lo dice anche Guardiola quindi sei in buona compagnia Marilena un po' canta e se ne va la capolista se ne va Paolo Santucci siamo sempre noi ma in molti non c'è più brillantezza e la feroce di due mesi fa ma ci sta avanti verso il traguardo ormai abbiamo superato anche i primi di aprile Anthony sono i tre punti perché tutto quello che è stato fatto è l'ottimo percorso fatto ormai è stato assodato quello che conta adesso appunto vincere le ultime partite vamos se non segnano se segnano gli attaccanti titolari scrive Stefano le riserve sono scarse segna Sanchez i titolari sono in crisi non è che possono segnare sempre tutti a raffiga e anche tu hai ragione la fattura dei gol segnati dalla giusta idea di una squadra che gioca a memoria non siamo nel nostro momento migliore ma continuiamo a macinare numeri clamorosi e a subire pochissimo poi ricordiamo comunque l'Empoli aveva vinto al Maradona con il Napoli ha pareggiato a Torino con la Juve con Nicola si è trasformata una squadra molto attenta che gioca che ha avuto anche delle occasioni per riaprire la partita lo avevi detto che ti alzavi presto ieri grande Marco stiamo arrivando Iames Cinici al punto giusto per user VX gol subito con Di Marco e nel finale gol di Sanchez Massimo Di Gregorio che è una grande esperienza secondo lui dice questa è sicuramente l'Inter più bella che ho visto giocare avanziamo con tutti i giocatori non dipendiamo solo dagli attaccanti Inter scambiamo la fascia sinistra con la destra e viceversa attacchiamo con i centrali di difesa non diamo punti di riferimento ecco perché siamo grandi e il mister Inzaghi è un grandissimo amo l'Inter non la critico mai perché tutte le partite sono difficili solo che noi le abbiamo rese facili con il nostro gioco è troppo facile salire sul carro quando si vince Nonna Novella come dicevo nell'uomo di Pasqua trovate la vittoria della mia squadra grazie ragazzi sono felice per Sanchez Lautaro un po' sottotono ma era stanco dal viaggio Andrea Cadei dopo il 2-1 del Milan a Firenze già tutti erano tornati tristoni vari poi per fortuna le chiacchiere e si torna in campo 2-0 con più 14 e più 20 Alessandro probabilmente la sosta per le nazionali ha lasciato segni evidenti parrebbe che si viaggia a marce ridotte ci può stare le grandi squadre sanno vincere gestendo tempi e risultato Paolo Giulio Valdi la buona prestazione fornita dall'Empoli evidenzia se mai ce ne fosse bisogno il merito della nostra vittoria Adanico appena tornato a giro in bici già sintonizzato saluto tutti i fratelli dell'Azzurro avevo detto 9 punti contro Empoli Udinese e Cagliari saranno 9 poi la potecosina del derby anche se l'avevate sentito Nicolino Berti un abbraccio post pasquale da Germanico tentano sempre di sminuirci questo dovrebbe dare ragazzi la motivazione la ferocia per asfaltare tutto quello che incontriamo e voglio festeggiare al derby sarà goduria totale allora direi che ci siamo diamo uno sguardo a quello che riportano i giornali oggi copertine dedicate al ritorno dalla crisi della Juventus con Allegri che al momento allontana anche le voci di cambio di panchina derby come Scotti già tutto esaurito con il Milan che vuole rovinare la festa mentre Manna va al Napoli stasera su Sport Mediaset Italia 1 dalle 20 e 25 Fiorentina Atalanta l'altra semifinale con un po' di nostalgia attacco a 5 stelle Tula mai più sola Taremi non basta avanti tutta su Gudmundson Turam e Lautaro più impiegati delle coppie di Milano e Juve Inzaghi in un altro rinforzo per l'islandese bisogna anticipare la Premier soprattutto il Tottenham e ci sarà anche un quinto attaccante come abbiamo sempre sottolineato ripresa domani Arnautovic e De Vrij agli straordinari pronti per Udine mentre Valentino Carboni miniera d'oro il sesto uomo di Inzaghi può far cambiare i piani il club vuole che cresca in caso di maxi offerta ecco chiedo a voi voi accettereste se arrivassero 40 milioni per Valentino Carboni io no però ci sono anche pareri discordanti avanti un muro anti-Inter 70.000 in missione per rovinare la festa del derby dei tifosi del Milan che poi guarda al mercato la crisi di Lukaku solo due gol in campionato in questo 2024 lo allontana da Roma chiudiamo con Tutto Sport che fa un interessante conteggio di quello che ha portato Inzaghi 460 milioni grazie a lui con tutto quello che è riuscito a fare in questi anni che è riuscito a fare